E' giallo a Scafati sulla possibilità dell'arrivo della commissione di accesso agli atti amministrativi. In discrezioni parlavano dell'arrivo di funzionari già stamattina, ma per ora così non è stato. Funzionari che avrebbe dovuto inviare il prefetto di Salerno dopo il via libero del Ministero degli Interni e che dovrebbero far luce sulle presunte infiltrazioni della malavita organizzata negli atti dell'amministrazione guidata dal Sindaco Aliberti. A chiedere l'arrivo al comune di Scafati dopo le indagini della direzione investigativa antimafia avviate lo scorso settembre erano state con le loro denunce i consiglieri di opposizione, ma anche il movimento arancione di Scafati. Ecco a proposito cosa ha dichiarato questa mattina il suo rappresentante Francesco Carotenuto. In data 24 settembre, esattamente qualche giorno dopo l'arrivo della DIA nella nostra città, ci rivolgimmo al prefetto di Salerno affinché potesse mettere in campo tutta una serie di azioni, in questo caso una commissione d'accesso agli atti, affinché verificasse tutta una serie di anomalie che noi abbiamo illustrato in maniera puntuale nella richiesta fatta dal movimento Scafati Arancioni insieme ai nostri rappresentanti, ai nostri simpatizzanti e ai nostri legali. Ci tengo a precisare, e questo è un monito che faccio soprattutto a tutti coloro che nel corso di questi mesi ci hanno accusato di voler sciogliere l'ente. Sapete benissimo che la commissione d'accesso non è l'anticamera dello scioglimento dell'ente locale. La commissione d'accesso viene nominata nel momento in cui ci sono delle anomalie rispetto a dei problemi di carattere amministrativo affinché si faccia luce, in questo caso, su tutta una serie di questioni, questioni che hanno riguardato gli avvisi di garanzia ad alcuni esponenti della nostra amministrazione e collaterali una serie di appalti che noi abbiamo illustrato all'interno della commissione e quindi ci auguriamo che si possa far luce per due motivi di sostanza innanzitutto il ripristino della legalità a Scafati affinché non passi più come la città vicina ad ambienti loschi o comunque dipinta per determinate questioni e soprattutto che si faccia luce sulla correttezza amministrativa. La possibilità dell'arrivo della commissione d'accesso agli atti del Ministero dell'Interno qui a Palazzo Maier, al comune di Scafati, in un certo qual senso ha investito il sindaco Aliberti che ci dice che è un momento di massima garanzia e in questo modo, con l'eventuale arrivo della commissione d'accesso agli atti avremo la certificazione del nostro lavoro di qualità. E' una cosa che naturalmente non mi preoccupa nella misura in cui se la commissione serve a fare chiarezza sugli atti che sono stati prodotti quelli per i quali o sui quali ci sono state denunce da parte della mia opposizione credo che sia anche un momento importante quasi una certificazione, un marchio anche di qualità alle cose che abbiamo prodotto nell'interesse della città. Al momento non abbiamo alcuna indicazione che va in questo senso garbo istituzionale vuole e naturalmente siamo di fronte a persone che hanno garbo istituzionale che il sindaco venga avvisato. Quando lo sarò non avrò problemi naturalmente a dire insomma mi ha chiamato il prefetto o dal Ministero è arrivata insomma la notizia che domani insomma si insedia la commissione d'accesso. Dunque anomalie nell'ambito di atti amministrativi e in particolare di appalti questo quanto dovrà eventualmente accertare la commissione di accesso agli atti intanto il sindaco Aliberti risponde anche a chi lo collega alla camorra in particolare dopo quanto asserito da un pentito della criminalità organizzata. Dietro tutto questo gioco ci sono i figli, la famiglia, una moglie, insomma familiari che vengono coinvolti anche ingiustamente. Io ho detto la magistratura fa il proprio compito però naturalmente i fatti accaduti anche negli ultimi tempi che rientrano nelle normali attività di un magistrato anche la perquisizione della propria abitazione si entra anche un po' nell'intimo. Sono cose che naturalmente ti lasciano il segno e che te le porti dentro poi metti anche un po' la maschera provi anche a nascondere il livello di delusione che hai dentro perché sai di aver lavorato sempre nell'interesse della città. Lei prima parlava del pentito. Io personalmente insomma non lo conosco neanche visivamente, l'ho visto dai giornali. Quando devi leggere sui giornali ha parlato il pentito e è intervenuta la direzione investigativa antimafia o arriva alla commissione d'accesso. È una sintesi giornalistica, è una fantasia giornalistica perché la magistratura naturalmente agisce in modo molto più serio però il processo nel frattempo ce lo stanno facendo sui giornali.